Musica Buonasera, oggi rispondiamo alle numerose mail che ci chiedono delucidazioni sull'amministratore di sostegno. Abbiamo girato le domande all'avvocato Bortolotti. Ci occupiamo di un istituto giuridico credo conosciuto da molti e che merita sicuramente un approfondimento per la rilevanza sociale soprattutto che porta con sé. E' la figura dell'amministratore di sostegno. Molti forse avranno sentito nominare questo istituto giuridico. Vediamo di capire con il consueto taglio pratico e sintetico di che cosa si tratta. L'universo che viene subito in mente è quello delle persone anziane, delle persone molto anziane, ma non è solo a loro che si rivolge questo istituto. Di che cosa si tratta? È un istituto giuridico di relativamente recente creazione, infatti la legge che lo istituisce risale al 2004 e è un istituto giuridico che è applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono parzialmente o del tutto non autosufficienti. E soprattutto non in grado di curare adeguatamente i propri interessi. Parliamo di patologie di varia natura e questo appunto ci fa capire che non è un'eventualità che si rivolge soltanto all'universo degli anziani. Parliamo di patologie mentali, patologie fisiche, handicap di una certa gravità. Però anche sono frequenti i casi in cui l'amministrazione di sostegno viene decisa per soggetti affetti da alcolismo abbastanza pesante, anche ad esempio da ludopatia, cioè i malati di gioco d'azzardo. Questo ci fa capire che in tutti i casi in cui un soggetto abbia una menomazione, una problematica, un'infermità tale della natura che abbiamo accenato prima, che lo rende incapace di gestire, di occuparsi in maniera adeguata dei propri interessi causandosi quindi un potenziale danno grave, la legge ha istituito e ideato questa figura di amministratore di sostegno che è diventata la figura normale che viene chiamata ad occuparsi di questi soggetti. Perché dico che è diventata la figura normale? Perché in origine nella normativa codicistica esistevano, ma esistono tuttora, ma sono praticamente disapplicati, la figura del tutore e del curatore che facevano riferimento a situazioni molto più gravi che erano quelle dell'interdizione e dell'inabilitazione, che sono tutto sommato oggi non applicate. Quindi nella pratica che cosa succede? Quando un soggetto viene riconosciuto nella propria cerca familiare, gravato da problematiche di questo genere, si può accedere ad una procedura abbastanza semplice che vado a descrivere. La nomina dell'amministratore di sostegno è sempre fatta dal giudice tutelare, quindi bisogna sempre comunque passare dal tribunale e la richiesta tramite un ricorso può essere fatta addirittura dal soggetto che ritiene di dover beneficare dell'amministrazione di sostegno o da chiunque ne abbia interesse all'interno della propria stretta cerchia familiare, quindi il coniuge e i parenti più vicini. Il ricorso depositato davanti al giudice tutelare dà via un procedimento che vede il proprio fulcro nell'esame, cosiddetto esame, che il giudice tutelare farà del soggetto che dovrebbe ricevere, giovarsi dell'amministrazione di sostegno, ossia il giudice si renderà conto di persona, se quanto documentato nel ricorso, perché ovviamente il ricorso deve essere documentato in maniera adeguata, cioè bisogna dimostrare che effettivamente le problematiche di cui noi stiamo parlando gravano il soggetto che deve essere tutelato dall'amministratore di sostegno, il giudice si renderà conto di persona se effettivamente la predisposizione di questa tutela è necessaria. Se così sarà, il giudice a mezzo di un decreto analitico determinerà quelle che sono le attività e gli adempimenti che potranno essere messi in essere nell'interesse del soggetto amministrato o solo dall'amministratore di sostegno, quindi senza possibilità per il soggetto menomato di porre in essere quegli atti specifici, e d'altra parte gli atti che invece il soggetto tutelato potrà ancora mettere in atto però solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, quindi due grandi famiglie di adempimenti. Le cose che potranno essere fatte solo dall'amministratore, a massima tutela del soggetto e magari se del caso sentendo il giudice tutelare, e invece gli adempimenti che il soggetto tutelato può ancora porre in essere ma solo con l'avallo e con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Tutte le altre attività, tutti gli adempimenti o affari che non sono indicati specificamente nel decreto che il giudice emette alla fine del ricorso rimangono ad appannaggio del soggetto tutelato. Quindi l'obiettivo generale che possiamo ricavare da questo istituto giuridico è sicuramente quello della massima tutela del soggetto infermo, però cercando anche di porre in essere la minore limitazione possibile delle sue prerogative. Quindi è stato sicuramente ideato un istituto giuridico molto più opportuno, molto meno invasivo, molto meno rigoroso rispetto alla precedente interdizione che comportava praticamente la totale sparizione di qualunque prerogativa di azione e di gestione di affari da parte del soggetto colpito dall'interdizione. Un consiglio veramente sentito, nonostante la procedura sia libera, quindi la si possa porre in essere senza l'assistenza di un legale, è quello appunto di rivolgersi a un avvocato esperto di diritto di famiglia, perché capiamo bene che al di là della procedura abbastanza semplice, gli interessi, le questioni in gioco e oggetto di giudizio da parte del giudice tutelare sono di assoluta rilevanza. Torniamo a parlare della legge finanziaria del 2018 e più precisamente degli incentivi per l'assunzione dei giovani lavoratori. Che cosa sono? A chi spettano? E soprattutto, come sono regolati? Sentiamo l'avvocato Pollastro. Buona giornata a tutti. Oggi voglio parlare di un argomento di cui molto si è parlato in occasione dell'approvazione della finanziaria e che è stata poi effettivamente, ha trovato una soluzione in una serie di commi che vanno dal 100 al 115esimo dell'articolo 1 della finanziaria di quest'anno. Sto parlando delle incentivazioni all'assunzione di giovani, molto si è esaltato e si è parlato di questi interventi da parte dello Stato. Allora, innanzitutto chiarisco subito una cosa. Esiste in questa norma nuova degli aspetti positivi e degli aspetti negativi perché si tratta di una norma che poi tento di spiegare un po' meglio in cui il datore di lavoro che assume giovani alla prima assunzione ha un incentivo significativo, cioè un incentivo per tre anni paga la metà dei contributi, in buona sostanza, per un massimo di 3 mila Euro all'anno di contributi detratti. È un intervento significativo. Aspetto positivo. Per la prima volta, no, per la prima volta è sbagliato, in questo caso, modificando comportamenti, prassi tipiche degli anni scorsi, ci troviamo di fronte a una norma cosiddetta strutturale, cioè che non è limitata al 2018, ma è una norma che vale da oggi, dal gennaio del 2018, in avanti. In passato c'erano spesso invece delle norme in cui, o incentivi, quant'altro, riconosciuti per un anno, riconosciuti per due anni, per cui esisteva un meccanismo di governo o di incentivo sull'occupazione o qualsiasi intervento di tipo economico, cosiddetto affiammate, per cui per un certo periodo c'era un risultato positivo con un crollo repentino evidente nel momento stesso in cui quell'incentivazione non c'era più. In questo caso l'avere trasformato in un meccanismo strutturale è importante. Secondo, invece, elemento negativo è che esiste un incentivo riconosciuto esclusivamente alle giovani che non abbiano avuto in precedenza altri rapporti, ancorché in breve, a tempo indeterminato, e che determina una differenziazione assolutamente indiscriminata tra chi per avventura ha avuto un rapporto magari anche breve e chi non l'ha avuto, tra chi magari invece è favorito e chi ha avuto un rapporto di lavoro magari non regolarizzato, il che, francamente, la logica che regga insieme questa disomogeneità, che giustifichi questa disomogeneità, assolutamente mi sembra sfugga e poco comprensibile. In sostanza, cosa stiamo parlando? A partire dal gennaio del 2018, i giovani fino a 35 anni possono essere assunti, se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto ad un abbattimento al 50% degli oneri previdenziali. IMS rimangono fermi, gli oneri di INAIL che però sappiamo essere assai meno, come dire, corposi dal punto di vista economico di quelli IMS. Nell'ipotesi in cui il lavoratore venga licenziato nel corso di questo, a partire dal 2018, il lavoratore si può, come dire, portare dietro, come fosse una piccola dote personale al nuovo datore di lavoro questa possibilità di abbattere i contributi. Questo che cosa vuol dire quindi? Che il lavoratore assunto con questo beneficio, nell'ipotesi in cui dovesse perdere il posto di lavoro, può portare in un nuovo rapporto di lavoro lo stesso beneficio, attenzione, lo stesso beneficio per il periodo residuo, per cui se uno ha lavorato per i primi sei mesi, il nuovo datore di lavoro avrà diritto non più tre anni, ma due anni e mezzo, il periodo residuo di contribuzione. Attenzione, questo tipo di beneficio è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia in precedenza avuto altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E questo è quello che dicevo prima. E quindi una differenziazione grave, una differenziazione poco comprensibile e quindi anche una forma di ingiustificata differenziazione di trattamento. Aggiungo un particolare. Sembrerebbe, mi sembra che invece sia assolutamente legittima l'assunzione in questo caso, l'assunzione in questo caso, con il beneficio nell'ipotesi in cui invece in precedenza uno abbia avuto non rapporti di lavoro a tempo di assunzione a tempo indeterminato, ma abbia avuto ad esempio dei rapporti di collaborazione, dei rapporti a termine, perché la legge esplicitamente parla di assunzione a tempo indeterminato. Quindi una norma positiva che può diventare un incentivo effettivo all'assunzione, ma una norma anche che ha degli elementi di disomogeneità, degli elementi di squilibrio sui quali io auspico che intervengano prima il Ministero del Lavoro e l'Inps nel limite della correzione di alcuni elementi assolutamente dubbi e secondo me, proprio perché è una norma di carattere strutturale, sarà meglio che intervenga anche il legislatore con alcuni chiarimenti e aggiustamenti. Grazie. Siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ricordo che se avete domande per i nostri avvocati potete scriverci. Avvocati rispondono chiocciolalicomizio.it Noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.